ma perché la gente mi deve portare queste buiaccate da riparare quando ci sono cose più importanti cioè la gente mi porta a riparare queste buiaccate quando io devo fare delle cose elettriche più importanti mi dissocio ragazzi mi dissocio veramente la gente la gente raga mi porta questo che buiaccate da riparare quando io devo fare cose più importanti ma perché ma perché si possono riparare in 10 secondi queste cose ma non mi portate queste cose cristo santo cristo santo ma perché mi metterebbe a piangere guardate queste buiaccate non te li fa più nessuno queste buiaccate rega non te li fa più nessuno oh dio santo esprimete sotto le vostre opinioni